Benvenuti. Questo è Miss Bianquala, il canale dell'illuminazione. Credere per vedere. Dove insegno l'antica saggezza dei maestri ascesi, tutto ciò che riguarda spiritualità, leggi di attrazione, leggi cosmiche e non solo. Non è un caso che sia arrivato a me, assolutamente. È perché ti stai risvegliando e hai bisogno di intraprendere un nuovo cammino. Un cammino che ti porterà dentro di te a comprendere il grande potere che risiede in te. Questo canale è strutturato come una scuola. Inizia dal primo video, nell'agosto del 2019. Troverai il link qui sotto nel box informazioni e piano piano risali studiando, apprendendo, comprendendo il grande potere che risiede proprio in te. Un potere enorme che ti permetterà di manifestare tutto quello che desideri anche di più. Se hai bisogno di aiuto, ci sono i miei servizi di consulenza unici nel loro genere. I miei corsi, le mie meditazioni personalizzate o anche già preconfezionate. Un'aggiunta unica. Lascia che ti guidi nella manifestazione di ciò che desideri. Che risvegli in te il tuo grande potere. Che restituisca a te il dominio sul tuo regno. Trovi tutte le informazioni necessarie qui sotto nel box informazioni o anche scrollando fra i commenti. E ora ti lascio alla visione del nuovo video. Pace amore ed energia. Ed eccoci qui con un nuovo video. E oggi siamo nel portale dell'1111. Io non vi faccio mai trascinare da queste cose perché io pratico ciò che il maestro mi ha insegnato. La mia sovranità divina. Quindi non mi faccio influenzare. Però quello che voglio fare oggi è innanzitutto dirvi portale o non portale. Quello che sta succedendo a livello mondiale planetario è un nuovo test. Questo lo possiamo vedere. Che siamo sotto fase di test. Dove sembra che il vecchio ci si ripresenti. Le vecchie energie, vecchi accadimenti ci si ripresentano. Sembra che qualcosa che avevamo superato ci viene ripresentato. Ma ci viene ripresentato perché non lo abbiamo superato. Quindi in questa giornata l'universo ancora più prepotentemente ci chiede se siamo intenzionati ancora a rimanere ancorati nel passato. Quello che noi facciamo spesso e volentieri è letteralmente fotocopiare il passato nel nostro presente e quindi nel nostro domani. Ci aspettiamo che siccome ieri mi è successo x cosa ho paura che oggi succeda. La mia paura che deriva appunto da questo credo e crea un'energia negativa diventata dal mio ego me lo fa accadere di qualche vedi. Come ieri. Si ripete la stessa storia. E quindi ci sono persone che sembrano non uscire mai da questi cicli dove si ripetono sempre più o meno le stesse cose, gli stessi eventi. Si attraggono sempre più o meno le stesse persone. Ok? L'universo quello che vi invita a fare è non considerare il passato. Perché l'universo non lo considera? Perché per l'universo esiste solo qui e ora. Ve l'ho spiegato. Il tempo divino è l'eternità. La presenza dell'eternità del qui e ora. Non conosce passato. Non conosce futuro. Sono dei concetti, delle regole che ci siamo creati noi. L'altro giorno il maestro mi fa ma a te che cosa dà sicurezza che sia oggi martedì? E io ho detto vabbè il calendario. Ok? Quindi il calendario è venuto fuori da qualcuno. E io ho detto sì vabbè hanno cominciato a contare. Insomma così. E lui mi ha detto sì e fino a quanto potresti... Cioè secondo te l'uomo delle caverne? I primi esseri che hanno abitato su questa faccia da terra? Tenevano un calendario? O è arrivata una persona che ha cominciato a dire adesso comincio da oggi a contare i giorni? E da oggi chi gli ha detto che oggi... Lo sto facendo molto semplice raga? Ok? C'è dietro tutta una cosa. È una scienza dietro i calendari e così via. Però una persona si attirava solo e si ha detto oggi vabbè partiamo da oggi. Oggi è lunedì. Ma chi ha detto che oggi era lunedì? Non c'è stato qualcuno che appena è iniziata la vita su questa terra ha detto oggi primo giorno è lunedì. Quindi noi ci stiamo basando su qualche cosa che secoli fa hanno deciso. Quindi oggi io dico è martedì ma chi ti ha detto che è martedì? Comprendete quello che voglio dirvi? È un nostro costrutto. Il calendario è stato variato nel corso dei secoli. Ma non c'è stato nessuno che appena ha aperto gli occhi su questa faccia della terra abbia detto oggi è lunedì. Comprendete? Ma noi siamo ancorati alla questione tempo. Ho diversi di voi che mi scrivono e mi dicono non posso ottenere questo. Non posso manifestare questo. Perché è troppo tardi. C'ho st'età. Lui non mi vorrà perché so' troppo vecchia o troppo vecchio. O perché c'è una grande differenza d'età. E vi fate bloccare letteralmente a tutto questo. non vi dico poi le persone che arrivano a me e mi dicono letteralmente quando io provo a distoglierle dal passato. Ma continuano lì a rimanere a fare questi bagni energetici. Continuano a rimanere. Cioè quindi cosa fanno? Rimangono proprio ipnotizzate su questo passato. Non riescono a distogliersi da questo passato. Perché lo temono. Ne hanno paura. Mi è successo. si ripeterà e così via. E quindi continuano a manifestare. Rimangono questi luccarmici che io vi ho parlato in diversi video. Vi ho parlato di cosa sono i luccarmici. Vi ho parlato del problema. Delle energie del passato. Ok? Perché come ho appena detto e come ho detto in altri video. Il tempo divino è un tempo. Uno. È solo. In questo preciso istante sta coesistendo tutto insieme. Tutte le realtà stanno coesistendo. E qui dico una cosa. Che in America va tanto in voga adesso. La famosa revisione del passato. La revision. Che hanno estrapolato sempre da suo voraccio di Neville. Ci sono tanti autori di quell'epoca. Ma Neville è quello che ha assorto praticamente. È quello che è proprio salito su. Nella preferenza di tutti. Guai chi io tocchi. Ho visto letteralmente youtuber fatte a pezzi. Perché hanno provato a un attimo dire vabbè sì però regà. Cioè sì Neville bravissimo però. Cioè ok? E c'è questa tecnica della revision dove lui praticamente insegna di andare a ritoccare il passato attraverso visualizzazioni. Poi ci sono altri coach che stanno fatte in un altro modo. Chissà racconta tramite frasi. Chi si va a scrivere il diario. Poi ognuno se l'è. Si va a ritoccare il passato. Io su questo sono contrarissima. Sono per dei motivi. E ve lo dice una che onestamente. Cioè non vi dico che avrebbe voluto. Assolutamente no. perché dopo riflettendoci. Ho detto no. E ritoccare il suo passato. Traumatico. Ora appunto parliamo di un passato traumatico. Per chi non lo sa io provengo da una famiglia dove fin da appena nata sono stata emarginata. Rinnegata. Cioè veniva istintivo a mia madre di proprio rigettarmi. Di non volermi. Perché mi sentiva diversa. Mi sentiva strana. cioè quindi nel corso della mia infanzia mi è stato detto e augurato di tutto e di più. Quindi chi più di me avrebbe voluto una vita differente. Quindi all'inizio quando ho appresi di questa tecnica perché la vedevo a destra e manca mi dissi wow potrei andare a fare questa revision del mio passato. Quindi potrei immaginare. Ma c'era qualcosa che a me era dissonante. Cioè non mi rimbalzava questa tecnica. Ok. Perché alla fin fine mi dice ok mettiamo che io la vado a ritoccare. Però attenzione. Io nel passato non ci posso tornare fisicamente. Quindi anche se adesso ottengo che i miei sono persone che invece come c'è questa figlia madonna quanto le amiamo quanto la vogliamo così via. io però fisicamente non posso tornare nella mia infanzia e rivivere in maniera differente in maniera positiva. Quindi devo stare a questione di vederli adesso che si comportano così. Però a me i cicatrici mi rimangono e non posso manco rimandare indietro la bobbina e ritornare in gay e invece di vivere quello che ho vissuto il dolore l'orrore che ho vissuto invece vivere come avrei voluto amatissima cioè voluta almeno accettata non sedermi augurare addirittura la morte cioè o essere maledette e così via ok. Quindi lì per lì ho già trovato una palla in questa tecnica perché ho detto secondo me ti dai il contentino. Ma io la voglio vive a livello di esperienza fisica. Studiando più avanti ho compreso che quello che mi è successo doveva succedere perché poi mi ha immesso su un certo tipo di strade fino a portarmi qui. E ho sopravvissuto a quelle cicatrici perché era stato programmato che sopravvivessi a quelle cicatrici. Una domanda che mi ponevo col maestro era perché il maestro nella sua grande potenza nonostante sapesse gli fu detto perché lo sapeva lo sapeva della fine che avrebbe fatto non si è fatto una revisione. Non si poteva fare una revisione. Ok mi hanno detto che finirò così mi faccio una revisione che invece non mi è stato detto perché quindi consulta al maestro perché tu non sei intervenuto. Nel tuo passato nel tuo passato ti hanno detto certe cose potevi andartelo a correggere quindi deviare il tuo percorso. E proprio la risposta mi è fondata fu questo. Innanzitutto non si va a ritoccare ciò che è stato programmato. Il bisogno di ritoccare deriva dalla questione umana, terrena, di chi non comprende. E attenzione non si va a invalidare assolutamente i sentimenti. No. Perché non è che dici vabbè devo stare felicissima. Assolutamente no. Non vado a invalidare i tuoi sentimenti. Non vado a dire devi essere felice quello che ti è successo della sofferenza. Cioè sorridi. No assolutamente no. Le cicatrici si portano ma si portano in un certo modo sulla propria armatura. Si portano in un certo modo si portano. Inoltre che senso ha? Mi ha spiegato. Andrà a ritoccare qualcosa che per me non esiste. perché il maestro non aveva il concetto del tempo. Sapia perfettamente che il tempo era un concetto umano. Quindi lui già partì dal presupposto che se devo andare a ritoccare io vado a ritoccare qualcosa che esiste adesso, coesiste adesso perché vi dico una cosa. Tutto quello che avete vissuto nel passato è ritoccabile perché esiste adesso. Cioè è ritoccabile perché esiste adesso. Nell'universo non esiste. passato e futuro. Quindi deve tutto coesistere in questo. Cioè quindi come se vi... Facciamo così. Come se vi dicessero che una cosa una pallina di cristallo dove è contenuto il vostro il vostro passato è in un'altra stanza. Invece no. È in questa stanza insieme a tutte le palline. Ok? E tu pensi che siccome la pallina è messa più dietro è nel passato ma no. In realtà è tutto già presente nella stanza. La stanza contiene tutto quanto queste palline. Non è perché sono messe una più dietro una più avanti. Allora una nel passato una più nel futuro. Assolutamente no. Ora premesso che se quella tecnica vi piace e volete farla io dico sempre raga fate anche perché io non è che vi posso fermare o altro fatela. Però riflettete su una cosa e siete sicuri che vi risolverà? Nel senso che se tornate bene se io vado a ritoccare quella tecnica e quindi vado a fantasticare a immaginare a imprimere nella mia coscienza che invece sono stata amatissima e quindi cambio cambio nel mio 3D quindi le persone si trasformano sì ma rimane sempre fatto che io fisicamente non c'è cioè mi sono data il conto in tima sola allora le persone si comportano cioè quello che tendo a farvi capire e che mi sembra che sfugge a parecchi è che il cambiamento succede in questo preciso istante perché non potete andare nel passato cioè se una persona vi ha trattato male e voi invece andate a fantasticare a lavorare a visualizzare a fare quello che vi scrive ai diari quello che volete che invece vi ha sempre trattato bene questa persona logicamente con i nuovi credo vi corrisponde però vi corrisponde nel presente perché per per l'universo non esiste il passato quindi è impossibile teletrasportarvi nel passato cioè comprendete non è che dici facendo questa tecnica revision attenzione io mi mi vado a trasportare nel passato che ne so a me quando avevo 5 anni e quindi rivivo tutto da capo no quello che succede è che la persona di adesso qua davanti ok ammetti che questo evento è successo quando io avevo 5 anni e adesso ne ho 35 io non è che ritorno a quando avevo 5 anni e quindi quella persona uguale andiamo tutte e due indietro no io mi ritrovo che adesso ho 35 anni e quella persona si comporta in maniera differente però sono passati 35 anni cioè nel senso non siamo tornati boom cioè questa tecnica revision non è che ti riporta indietro quindi dal punto di vista mio ma non solo era la questione del perché andare a educare qualcosa che uno non esiste due è spesso e volentieri dettato da un bisogno egoico è dettato a un bisogno egoico è dettato quando ci sono comunque sia puoi fare la stessa cosa partendo da adesso cioè siccome io ti dico siccome nel passato non ci posso tornare quindi non posso fare questa esperienza con il mio corpo fisico non posso farlo ok non è permesso assolutamente dunque che succede che tanto il cambiamento ce l'ho nel presente quindi non posso tornare indietro il cambiamento tanto è solo nel presente e comunque sia la persona quello che io faccio io non è che perdo la memoria la persona si comporta carinamente ma per l'arte di 35 anni mi ha trattato a merda ora si comporta carinamente ma mi ha trattato a merda non è che vai a cancellare tutto vai a di te stessa io dico te stessa perché quello che succede con le altre persone quando vai a riscrivere sembra che si dimenticano totalmente perché tu scegli un'altra versione quindi sembra che si dimenticano totalmente di quello che ti hanno fatto che ti hanno sembra come una nuova versione che hai davanti una versione diversa perché è così? perché vai a scegliere estrapolare come vi ho spiegato una versione che adesso corrisponde a questo mio nuovo credo il mio nuovo credo è che mi ha sempre trattato benissimo mi ha sempre trattato però rimane il fatto che a fine era you're not cioè è adesso il cambiamento è adesso perché esiste solo l'adesso questo lo cerco di farvi capire esiste solo l'adesso esiste quindi andare a ritoccare un passato perché inoltre quello che potete fare secondo me meglio ancora sapendo che non potete tornarci è partire e sapendo che potete soltanto sperimentare l'adesso è partire da adesso d'ora in avanti sta persona cioè secondo me è meglio questo d'ora in avanti sta persona mi tratta in questa maniera mi tratta in questa maniera x invece che y cioè io questo vedo e ve lo dico da una che a me tante volte quando ancora non conoscevo questa roba avrei voluto avere una macchina del tempo tornare indietro e avere un trattamento differente avere però poi quando ho realizzato e mi sono confrontata con il maestro è vero è passato un sapore tocca è passato manco esiste esiste tutto nel qui di ora perché già la sua domanda era ma perché non operi siccome nel passato non c'è quindi stiamo parlando del del niente non c'è quello che faceva Neville perché secondo me non è stato ben compreso era che andava a ritoccare il presente però infine quello che era successo ieri era successo ieri la persona che mi pare che c'è un cosa un pezzo di storia che racconta una persona che ci aveva ha avuto per mi pare 20 anni mi ricordo quanto un dolore alla schiena in seguito a un incidente lei cosa ha fatto? si è fatta la revision attenzione lei si è fatta la revision questa revisione come se quell'incidente non fosse successo e si è quindi guarita nel presente però si è guarita nel presente l'altri 20 anni 30 ha passato nel dolore cioè mi comprendete non è che è stata riportata indietro ecco perché per me questa tecnica non c'ha senso non è che ti riporta fisicamente dietro e quindi è come una una macchina del tempo arrivata indietro a un incidente che mi è successo mi dico una cazzata negli anni 70 allora ritorno io fisicamente negli anni 70 e quindi vengono boom cancellati tutti i restanti anni che invece ho vissuto con il dolore no no vengo guarita nel presente perché si sono un presente però l'altri 20-30 anni del dolore ce l'ho mo si sto bene però ho vissuto cioè comprendete poi tornerete se a voi vi piace questa tecnica perché va tanto in voga in america fatela ma secondo me non ha senso non ha senso anzi secondo me non era compresa la questione non era compresa la questione perché io dico sempre che nevole ero ok ma secondo me ancora più forte era il suo mentore abdullà secondo me abdullà gli piava i piste con tutto rispetto e nevole che comunque è però gli piava i piste gli piava cioè secondo me è il suo maestro gli piava i piste gli piava c'è già il fatto che era una persona di colore e viveva in un'epoca dove cioè manco al verso di colore manco era permesso tra poco di respirare e invece aveva una vita ricca agiata frequentava club ristoranti aveva una vita da bianco come se fosse bianco senza un problema cioè la portata enorme nell'america di quegli anni dove cioè tra virgolette raga non ti potevi seder manco nel soprano dopo comprendete secondo me il potere che aveva con l'uomo abdullà per me è una figura molto più affascinante quindi secondo me andare a ritoccare a fare queste revision del passato e soprattutto oggi che siamo in questo portale io vi invito appunto a chiudere col passato vi invito a chiudere assolutamente con il passato a non guardarlo più io il passato lo guardo lo prendo per comprendere che cosa non è andato che cosa posso modificare che cosa posso comprendere di me stessa però partendo che va come dice ormai sto lasciata i morti ai morti lasciate che i morti si appelliscano i morti anche perché andare a rimestolare in situazioni che ve so accadute sempre la risposta poi sarà nel presente se io vado a fare la revisione che mi sono stata trattata bene tanto la risposta è nel presente la risposta è sempre nel presente non è che qualcuno vi riporta fisicamente a 30 anni fa e ci avrete la famiglia del mulino bianco no è sempre nel presente quindi a meno che voi non vi fate vi cancellate a memoria tipo che è man in black vi cancellate cioè comprendete avrete comunque memoria che si la persona si sta comporta bene davanti a me che bello finalmente mi vuole bene sì però a 30 anni ho sofferto quella persona che si è fatta benissimo che si è risanata però a 30 anni secondo me non serve secondo me basta che attesti che questa come vi ho spiegato in altri video scorsi questa realtà fine nisba n'esiste più questa realtà non la fotocopio più non ci voglio abitare più in questa realtà faccio il salto quantico in una nuova realtà dove io attraverso appunto la rielaborazione del mio concetto di me stessa dei miei credo ho questa nuova dinamica con le persone con gli atti con gli eventi ho questa nuova dinamica cioè a me sembra molto più semplice che chiudese affasse le passeggiate sui viali del passato quando il passato non lo cioè non lo puoi toccare perché non puoi toccare qualcosa che per l'universo non esiste per l'universo in quell'istante tu stai toccando qualcosa che per l'universo già è presente se tratta solo ti devi spostare ad un'altra realtà quando tu arrivi diciamo alla coscienza di Cristo tu vai a condensare tutto quanto vai a condensare ok vai a condensare tutto quanto vai a condensare eliminando la questione tempo eliminando la questione tempo la vai a condensare eliminando la questione tempo funziona così però non puoi cioè non puoi prendere il corpo fisico e portarti da qualche parte perché vi dico una cosa tecnicamente vi ci state già portando non con il corpo fisico ma in parte forse perché quando io vado a rivivere un evento traumatico io lo vado a rivivere anche a livello fisico perché provo delle emozioni alcune volte proprio anche fisiche che ne so dei brividi o delle delle sensazioni che scatto cioè comprendete quello che voglio dirvi poi torni a vedere se è una tecnica che vi piace e volete farla approfondirla accomodatevi io qui vi dico quello che penso e so che Neville è praticamente intoccabile il massimo per me non c'è nessuno più di Gesù perché a quanto si sappia Neville non ha fatto i miracoli le cose che ha compreso per me più di Gesù non c'è nessuno quindi io a me è stato assegnato questo maestro l'ho sempre apprezzata adesso però so che piace moltissimo anche se torni a ripetere per me il suo maestro stava molto più avanti via proprio come si dice nell'anni 3000 via molto più avanti via nulla a togliere che comunque sia cioè è ok cioè però non mi ci sono mai ritrovata nonostante io l'ho studiato cioè c'è tutto questo hype ho detto vanno a leggere dei suoi libri io quando studio studio aspetta e faccio vedere cioè a me quando mi dicono di studiare cioè non so se comprendete cioè io non è che studio mi do una lettura e ciao raga cioè per dirvi cioè e questo è quanto è un autore apprezzabile mi piace però trovo che non superi il maestro onestamente trovo che non superi il maestro e trovo che si può andare a ritoccare il passato in realtà non vai a ritoccare il passato a ritoccare qualcosa che già esiste già la concezione che tu dici vado a ritoccare il passato secondo me è sbagliata perché non esiste il passato è una concezione solo umana quello che stai a ritoccare è tanto te ne accorgi che è intoccabile e che non esiste per esempio c'è il fatto che la persona su cui tu stai andando a influire o l'evento su cui tu stai andando a influire cambiandolo il risultato poi lo tieni nel presente non è che cioè quella già la dimostrazione che stai ritoccando il nulla cioè nel senso qualcosa che non esiste per l'universo del passato no perché è già contenuto nel presente prima di chiudere vi lascio con sapete che di tanto in tanto mi diverto a fare le letture energetiche collettive e le faccio adesso anche singole da un po' di mesi ne prendo pochissimi tipo due a settimana perché comunque mi prendono un sacco di tempo con le singole personali e la carta che mi è uscita fuori per questo portale 1111 è quello della disciplina ma soprattutto la carta del quello che hai bisogno di lasciare andare via cosa hai bisogno di lasciare andare via appunto questo passato che ti trascini che ti spaventa che hai paura che si ripeta questi look carmici su cosa ti devi allineare vedete l'immagine di noi stessi scomposta che ci propone il nostro ego sembra che mancano dei pezzi o che sono messi alla rinfusa e invece no cosa devi riallineare ossia te stessa attraverso la disciplina avrai un'immagine pulita avrai un'immagine non scomposta avrai i pezzi del puzzle che tornano al tuo posto ma per fare questo devi appunto lasciare andare la tua vecchia immagine il passato quell'immagine del passato di te stessa di te stesso dove dettagliare corto alcuni di voi mi hanno fatto delle domande il corso degli anni mi hanno chiesto io questo non ne ho mai parlato mi hanno chiesto ma tu che ne pensi delle regressioni al passato andare a smucinare il passato a cercare chi eravamo se vi interessa posso dire la mia su questo anche sull'andare a ricercare chi eravamo le famiglie le varie famiglie di anime e così via quello che vi dico solo oggi è che questa è un'immagine che vi presenta il vostro ego un'immagine che sembra che appunto vada in pezzi o che sia già pezzi che sia da ricomporre ma non è assolutamente così cosa devi appunto raddrizzare di te stessa di te stesso che pensi che sia appunto storta o che cosa devi completare che pensi che sia mancante e ecco che entra la disciplina il lavoro di disciplina e l'invito e l'universo a chiude col passato cosa devi lasciare andare quello che è successo è successo ragazzi vi potete fare tutte le tecniche da revision che volete otterrete sempre risultato nel presente ma quello che vi è successo vi è successo la persona o l'evento che vi è fatto male è accaduto a meno che non vedate ma non mi auguro che lo facciate una botta in testa e vi dimenticate tutto e vi provocate un'amnesia anche se raddrizzate come giusto che sia non dico giustissimo che sia interverrete nel presente perché il passato voi non comprendete che intervenire nel presente e vi invito a intervenire nel presente assolutamente il potere è nel presente non nel passato forse è meglio allora lavorare su quello che vi è successo sull'accettazione accettazione non vuol dire come vi ho spiegato in un altro video accetto perdono va bene un invalidare i vostri i vostri dolori i vostri sentimenti ma vuol dire più che altro andare a studiare a capire che cosa è nato che cosa poi è si è sviluppato in seguito a quegli eventi dove mi hanno portato quegli eventi cosa sono io oggi e cosa desidero essere io domani ossia sempre oggi e dove possa andare a intervenire oggi come vorrei oggi che fosse differente perché accadrà oggi il mio intervento comunque influirà sulla persona sull'evento di oggi la persona che si è guarita dal suo mal di schiena ha passato comunque non ha potuto cancellare i 20-30 anni è intervenuta nell'oggi si è risanata nell'oggi ma per 20-30 anni è stata malata perché il passato non si può andare appunto a ritoccare non puoi ritoccare qualche cosa che per l'universo non esiste punto e basta se non nella nostra memoria ma noi siamo anche così tanto potenti che potremmo addirittura rimuoverla in questo è un'arte grossa che hanno i bambini i bambini si rimuovono totalmente possono rimuoversi totalmente delle cose letteralmente che magari possono essere addirittura ripescate decenni dopo attraverso una terapia psicologica e così via non potete comprendere quanto siamo potenti e soprattutto intricati nella nostra struttura sia dell'anima che della mente nessuno vi restituirà quello che secondo voi vi è stato tolto ma potete ridarvelo oggi nel vostro presente e comunque certi dolori anche se tristi brutti ingiusti dovete comprendere che dietro c'è un disegno che noi a livello umano spesso non comprendiamo non comprendiamo perché non lo conosciamo tutto quanto siamo in una visione illimitata vi faccio sempre l'esempio dell'aquila l'aquila io sono davanti a delle montagne e vedo non vedo oltre quelle montagne quella cadena montuosa l'aquila dal di sopra vede oltre ha una visione più ampia facciamo finta che questa è la mia parte umana e l'aquila è la parte ultraterrena che vede l'oltre che vede vi ricordo sempre che il maestro nonostante sapesse non ha ritoccato il suo passato poteva farlo nel momento che portava la croce la gente lo derideva e gli diceva perché non ti salvi perché non fai qualcosa l'amesso sapeva che certe cose devono andare perché c'è un disegno dietro un disegno per quanto ingiusto doloroso orrendo c'è un disegno e anche se in quel momento si fosse fermato e avesse fatto un lavoro e avesse comandato che invece i romani eh no non ti vogliamo più crocevigie tutti amici tutti amici no no non ti preoccupare neanche con il sinedrio no no guarda vai tranquillo nessuno avrebbe dicevo nessuno avrebbe cancellato quello che gli era appena successo comprendete si può intervenire solo nel presente guardate più volte questo video non vi fate tre gare gà perché così si può intervenire solo nel presente interveniamo nel presente quando voi intervenire nel presente il passato si modifica per il semplice fatto che il passato è nel presente e questo è quanto questo è il mio regalo per l'undici undici pace amore energia per l'undici per l'undici Grazie a tutti.